Ed allora qui ad Ippocrate noi abbiamo parlato da mesi dei vari e molti tagli alla sanità pubblica nel nostro paese ma la sanità privata è un'isola felice oppure anche lì insomma non è che se la passino così bene benvenuto al presidente di Federani Sap Vincenzo Panarella Allora innanzitutto Panarella poi Federani Sap ha dato il notevole contributo proprio a questa campagna Usa la testa, fa il test, sono i vostri laboratori che sono a disposizione in tutta Italia per fare il test fino al 21 giugno però veniamo alla vostra situazione, come ve la passate? La sanità privata per quanto riguarda la nostra attività ambulatoriale e specialistica mi riferisco ai laboratori di analisi cliniche, agli istituti di radiologia, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione a svolgere un'attività sul territorio con più di 4 mila aziende quindi significa grandi numeri, centinaia di migliaia di pazienti, di cittadini che ogni giorno si rivolgono Ci sono grandi situazioni, tipo il San Raffaele di Milano, insomma abbiamo seguito, è inutile riprenderla tutta quella ingarbugliatissima storia anche lì centinaia di milioni di euro o fuori, tanto che poi alla fine è dovuto essere liquidato venduto diciamo nello stesso momento abbiamo la situazione del Gemelli qui a Roma dove i lavoratori sono in stato di agitazione permanente anche lì ci sono dei tagli di rientro importanti insomma neppure forse la sanità privata nella sua eccellenza riesce a far fronte a quest'urto della crisi o è altro? La sanità privata vive in parte di servizio sanitario nazionale tramite i processi di accreditamento la sanità privata è pagata a prestazione, la sanità privata soffre di ritardi dei pagamenti, delle prestazioni che vengono tagliate di tariffari che non sono realmente adeguati al costo Proprio voi di Feder Anisap avete protestato recentemente sulla riduzione delle tariffe appunto riconosciute Esattamente, c'è anche una interrogazione parlamentare di questi giorni relativamente al costo delle tariffe Pongo un esempio, una siringa può essere sufficientemente valutata come costo di produzione e quindi come costo finale all'utilizzatore Una glicemia deve essere attentamente costruita come valori di costo Il tariffario nomenclatore attualmente proposto produrrà tagli orizzontali pesantissimi e produrrà meno salute per i cittadini sul territorio Grazie anche a Vincenzo Panarella che è stato con noi qui ad Ippocrate Grazie a tutti